Un servizio per la comunità lo fa sotto forma di trasporto pubblico locale, dando dei servizi efficienti ed efficaci, ma nello stesso tempo aiutando la comunità locale a stare meglio. Cerchiamo di farlo anche in periodi non di alta stagione, cercando di puntare sulla destagionalizzazione della nostra attività per stare vicino alle famiglie, ma stare vicino anche a te.